Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Da dove viene il denaro e dove va? Quale sarà il futuro del denaro? In che modo il digital ha impattato e impatterà sul nostro modo di percepire e utilizzare il denaro? Ci sono alcuni pensieri, alcune riflessioni, alcune realtà che vorrei condividere con te oggi Perché è fondamentale maturare una consapevolezza rispetto all'evoluzione del denaro nell'era digitale Per poter già oggi capire e utilizzare in maniera corretta il denaro, gli strumenti di pagamento digitali E le piccole e grandi innovazioni che giorno dopo giorno vediamo accadere intorno a noi Anche a tutela di quel denaro che guadagniamo dalla nostra attività professionale e dal nostro business Capire come funziona il denaro è il miglior modo per far sì che il denaro sia uno strumento utile Utile a costruire i nostri progetti, a realizzare i nostri desideri, a risolvere i nostri problemi Insomma a governare noi il denaro e a non lasciarci governare da lui Tra un secondo scopriamo quindi il passato, il presente e il futuro del denaro nel mondo digitale Ma prima voglio ricordarti che strategiadigitale.info è il luogo dove ci ritroviamo online E' la prima volta che ascolti questo podcast, il miglior modo per continuare a seguirlo, iscriverti gratuitamente Condividerlo con i tuoi amici e andare su strategiadigitale.info Dove vedrai che c'è una community appassionata di ascoltatori che contribuisce alla crescita in qualità e in quantità di questo podcast Ma ora bando alle ciance perché è arrivato il momento di parlare di denaro E capire quale sarà il suo futuro nel mondo digitale Ti sei mai chiesto che cos'è il denaro? Perché effettivamente noi lo usiamo tutti i giorni Questa mattina la prima volta che ho utilizzato il denaro è stato nell'acquistare un cappuccino e un cornetto al bar E poi da quel momento varie volte durante la giornata per comprare cose nel mondo reale Comprare cose nel mondo digitale, fare degli ordini su Amazon Pagamenti che andavano anche automaticamente a prescindere da una mia azione Magari perché semplicemente avevo sottoscritto un abbonamento Sarà il momento natalizio in cui sono tutti impazziti a fare spese e comprare regali di Natale Ma questo tema del denaro ricorre più volte Soprattutto rispetto a come il denaro sta mutando Che cos'è questo denaro? Cosa sono questi soldi? In fondo il denaro è una convenzione sociale Una convenzione sociale potresti dire tu Uè Gaudiano, altro che convenzione sociale Col denaro ci puoi fare le robe Per questo che faccio business Ecco, sì, potrebbe sembrare strano pensare al denaro come una convenzione sociale Eppure, nell'antichità la prima forma di scambio era il baratto Fondamentalmente io coltivo il grano Tu hai le mucche che fanno il latte A un certo punto a me serve il latte A te serve il grano E scambiamo Scambiamo una certa quantità di latte per una certa quantità di grano Da questa realtà del baratto Nel momento in cui io ho il grano A te serve il grano Ma tu hai il latte A me il latte non interessa Perché invece del latte voglio la legna C'è dall'altra parte un'altra persona che ha la legna E che vuole il latte ma non vuole il grano Allora si possono creare delle esigenze complesse In qualche modo c'è bisogno di avere una merce di scambio Cioè una merce che non sia lo scopo finale Tu devi procurarti il grano E per procurarti il grano hai bisogno della legna Allora vai prima a comprare la legna E mi dai la legna e io ti do il grano in cambio Perché non me ne faccio nulla del latte che tu produci Questa necessità di merce di scambio Fa nascere delle cosiddette merci moneta Il grano, l'orzo, il frumento, i cereali si prestano molto bene Per la loro atomizzazione Cioè per il fatto che posso pesarli in misure sempre più piccole Si prestano bene a essere delle merci di scambio Per cui io vado a comprare la legna E tu mi dici questa legna vale 10 misure di grano Ok io ti do in latte il valore equivalente di 10 misure di grano Quindi diventano delle merci di riferimento Delle merci moneta potremmo chiamarle così Da lì il passaggio al metallo appeso è molto breve Perché così come posso utilizzare il grano Che è divisibile in parti più piccole O tutti i cereali Ma sono difficilmente conservabili Anche perché si possono rovinare Sono deperibili, sono organici Ma anche le condizioni atmosferiche possono cambiare il loro peso Un grano più secco rispetto a uno più carico di acqua Più umido hanno un peso diverso Allora l'idea è stata quella di utilizzare dei metalli Che invece sono molto meno variabili Molto meno deperibili rispetto ai cereali per esempio E quindi il metallo appeso già da 3000 anni prima di Cristo Veniva utilizzato il metallo appeso come moneta Questo metallo a un certo punto viene utilizzato per coniare delle monete Quindi vengono realizzati dei veri e propri lingotti di metallo Dei lingotti di misura variabile Più sono piccoli questi lingotti Più sono scambiabili e frazionabili Bene, a un certo punto su questi lingotti Invece che essere pesati Viene scritto un valore Quindi passiamo dal metallo appeso al metallo a numero Così detto Questo metallo a numero è interessante Perché nel rinascimento per esempio Se io avevo 5 grammi d'oro E con quei 5 grammi d'oro Potevo avere una moneta Che necessitava per avere il suo valore di 5 grammi d'oro Potevo andare alla zecca Lasciare i miei grammi d'oro In pepite, in gioielli Quello che mi pare E questo oro veniva fuso E ne veniva creata una moneta Infatti, diciamo Là nasce il fenomeno del signoraggio Perché semplicemente pagavo una tassa Una piccola tassa Sulla trasformazione di quella materia prima In moneta E a quel punto avevo una moneta in mano Quindi sempre più interessante Diventa questo discorso Perché dall'idea che un oggetto fisico È abbinato a un valore E quel valore mi dà accesso all'acquisto di beni Passiamo all'idea che c'è un'autorità Che crea la moneta Quindi trasferisce il valore A un oggetto fisico del quale tu sei già in possesso Tu hai il lingotto d'oro Ma io per trasformartelo in moneta Ti chiedo una tassa E quindi sono garante Che in quella moneta Con quel peso scritto sopra C'è effettivamente quella quantità d'oro E quest'idea di un soggetto terzo Che garantisce il valore del denaro Aumenta sempre di più Prende sempre più valore Con la moneta cartacea A un certo punto nascono le banche Come nascono? Semplicemente sembra che un modo per cui potrebbero essere nate le banche È associabile al commercio Cioè mercanti avevano bisogno di molte finanze Per poter affrontare delle imprese mercantili Che voleva dire prendere delle merci E portarle magari al di là del mare Prendendo una nave che poteva intanto naufragare E quindi avevo bisogno di due navi Dividendo il carico metà su una metà sull'altra Quindi mi servivano dei capitali Prima di poter accedere allo scambio Quindi poter riavere il valore economico da quella merce Bene, i mercanti hanno cominciato ad accumulare il denaro Che poi avrebbero utilizzato Per creare quel contesto Che sarebbe finito poi nello scambio Nella transazione commerciale Questa è un'idea Un'altra idea è che i cambi a valute Potrebbero aver creato questa idea della banca Di un soggetto che accumula il denaro Lo tiene per conto degli altri Bene, come è stato o come non è stato A noi delle banche non interessa molto Quello che ci interessa è che a un certo punto Il numero diventa più importante del peso Il numero che c'è su quella moneta E non è importante più avere un supporto prezioso Ma mi dà molta più possibilità di scambio E di frazionamento Avere un supporto Che non richiede la presenza di materiale prezioso E quindi la moneta cartacea Che sostanzialmente è una nota di debito Quindi tu non hai più la quantità di oro Nelle tue mani Tu porti l'oro a me Che sono la banca Giulio Giulio ti lascia un foglio Con scritto Tu sei proprietario di 5 grammi d'oro Firmato Giulio Questo biglietto Questa nota di debito Te la do E tu magari te ne do 5 Ognuna con scritto Sei proprietario di 1 grammo d'oro Così è diviso in 5 banconote differenti Queste 5 note di debito Tu te le puoi spendere E la persona che prende questa nota di debito Poi verrà da Giulio E si farà dare il controvalore in oro Qualora ne avrà bisogno E qui nasce il concetto di fiducia Quindi il denaro è una convenzione Nasce proprio come convenzione sociale Ma a un certo punto Su questa convenzione Si comincia a crescere Il concetto di fiducia Il concetto di fiducia Sappiamo che è legato All'autorevolezza Mi pare fosse Il conte di Monte Cristo Non ricordo perché L'ho letto un po' di tempo fa Ma mi colpì Quando lessi il conte di Monte Cristo Da ragazzo Che il denaro non valeva tutto uguale Cioè alcune di queste note di debito Valevano di più di altre Perché l'autorità che le aveva emesse La banca Il banchiere Il nobile La persona che le aveva emesse Era una persona che godeva di maggior fiducia E quindi Godendo di maggior fiducia Quel denaro è un denaro più certo Più solido Ecco Da qui Piano piano Sono stati gli stati A emettere moneta E dagli stati Abbiamo visto Nell'Unione Europea Addirittura Delle entità Sovranazionali Di nuovo Ritorno al concetto Di convenzione Di patto Perché a un certo punto Ce lo ricordiamo Penso bene tutti Abbiamo È stato fissato Il valore Del cambio Tra La lira La vecchia lira E l'euro E da quel momento in poi Abbiamo tutti cominciato A utilizzare L'euro Così come Rispetto alle altre monete Nazionali Quindi un'unità Sovranazionale Che Sgancia La moneta Dall'identità Sgancia la moneta Dal senso di Appartenenza Nazionale Bene Cosa sta succedendo Negli ultimi anni Cosa stanno facendo Cosa sta facendo Il digital A questo denaro A queste monete Sta ancora di più Smaterializzando E rendendo evidente La natura convenzionale Del denaro Alla fine Io attribuisco Valore Al denaro Se questo denaro Mi dà la possibilità Di fare Quello Che Voglio fare Se mi Permette di avere Quello che voglio avere Di vivere Ciò che voglio vivere E quindi Prendono Senso Anche le monete Virtuali Le monete All'interno Dei videogiochi Se io Ho desiderio Di catturare Un pokemon E non ho La pokeball Che mi consente Di catturarlo Dei 10 euro Che sono Nel mio portafoglio Non ci faccio Niente Perché io Con quei 10 euro Non ci posso Catturare il pokemon Io voglio Catturare il pokemon E mi serve Una pokeball E per avere Una pokeball Mi servono Le monete Del gioco Pokemon go E quindi Quei 10 euro Per me Perdono valore E sono pronto A scambiarli Per qualcosa Di assolutamente Digitale Quindi fondamentalmente Per noi Il denaro Ha valore Se mi consente Di fare Quello che voglio fare Di avere Quello che voglio avere E in questo senso Il denaro Le criptovalute Il denaro digitale Basato su blockchain È solo una parte Ci fa solo intravedere Quello che possiamo Aspettarci Dal futuro Infatti La blockchain Sostanzialmente Attribuisce Una sicurezza Dal punto di vista Contabile Rispetto alla non falsificazione Rispetto al denaro Ma è semplicemente Una filigrana Cioè blockchain È la filigrana Che posso inserire All'interno Della banconota Ma non è il denaro In sé Il valore Al denaro in sé Questo lo chiedono molti Dici ma cos'è Che dà il valore Al bitcoin Il valore Del denaro in sé È frutto Del valore Attribuito Dalle persone Mi ricordo Quando In una grande conferenza L'inventore Di una criptovaluta Ha chiesto Chi tra i presenti Tra le decine Di migliaia Di presenti Deteneva Criptovalute E sono rimasto Impressionato Vedendo Il numero enorme Di persone Che deteneva Criptovalute Che aveva Un portafoglio Virtuale Con delle criptovalute All'interno La visione Di queste persone Mi ha fatto Scattare qualcosa Nella testa E ho detto Cavolo Queste persone Hanno attribuito Valore A questo A questa convenzione Sostenuta Da una tecnologia Digitale Della tecnologia Blockchain Blockchain Ci dice Che Quella Moneta Non è falsa Ok Ma il valore Che noi attribuiamo A questa moneta Lo attribuiscono Quelle persone Che hanno alzato La mano E hanno detto Sì Per me Sì Sono proprietario Di criptovalute Per me Queste criptovalute Hanno un valore Hanno un valore Più alto Del dollaro Che ho speso Per acquistarle O dell'euro Che ho speso Per acquistarle Allora Cosa potrebbe succedere Da qui a breve Che le entità Che godono Di una maggiore Autorevolezza Le entità Che Alle quali Attribuiamo Maggiore fiducia Che sono più presenti Nella nostra Vita Di tutti i giorni Potranno In qualche modo Coniare una moneta Che sarà ritenuta Da noi Più affidabile Più utile Più scambiabile Rispetto alla moneta Di base Stessa Rispetto all'euro O al dollaro Che abbiamo utilizzato Finora Di che cosa sto parlando Però vado ad andare Da un ragazzo E chiedegli Ma tu ti senti Più italiano O ti senti più Utente Apple Tu potresti Se dovessi rinunciare A qualcosa Rinunceresti Ad Amazon O rinunceresti All'Unione Europea Ecco Io penso che Sulla risposta A queste domande Siamo un pochino Tutti d'accordo E vediamo Come questi brand Sovranazionali Che si rendono Presenti Indispensabili Nella nostra vita Accerchiandoci Con i loro prodotti Servizi Con i loro beni digitali E quindi Per loro Infinitamente replicabili È Veramente Un Un fattore Importante Rispetto A quello che potrà essere Il denaro in futuro E allora Immaginiamo Un futuro Non troppo lontano In cui Amazon Avrà un suo Amazon dollar Un suo dollaro Amazon Per cui io Prenderò I miei euro E avrò Verrò invitato Da Amazon Ad acquistare La sua valuta Per poter Comprare Le merci Accedere a prodotti O servizi A prezzi Differenti Amazon Per esempio Potrebbe dirmi Guarda Amazon prime Costa 100 euro L'anno Ma Se lo compri Con Gli Amazon dollar Costa 50 euro L'anno Il corrispettivo In amazon dollar Di 50 euro L'anno Quindi alla fine Mi sta offrendo Una merce digitale Che per lui È infinitamente Replicabile Garantita Da un'autorevolezza Che per me È semplicemente Il valore Di quel brand Ha una condizione Vantaggiosa Ecco Proprio come ho descritto Per il denaro Di pokemon Che mi permette Di acquistare Le pokeballs E di catturare Il pokemon Che in quel momento È la mia priorità Il mio denaro Perderà Di valore Ai miei occhi I miei euro Varranno pochissimo Rispetto alla possibilità Di avere Quegli amazon dollar Ecco Questi amazon dollar Sono già una Realtà Oggi esistono I crediti amazon Puoi cambiare Il tuo denaro In crediti amazon E ti offrono In cambio Di mi pare 60 euro 5 euro Gratuiti Che cosa Ti stanno dicendo Ti stanno dicendo Che i tuoi 60 euro Valgono 65 amazon euro Quindi che con L'amazon euro Puoi comprare Più cose Stanno già Realizzando Questa cosa La blockchain Verrà utilizzata Da loro Forse sì Forse no Forse è una tecnologia Anticontraffazione Che può essere Molto utilmente Adottata Da questi multinazionali Forse Inventeranno Altre tecnologie Ma Attenzione A quello che sta Succedendo Attenzione Al modo Di evolvere Del denaro Così come Per i pagamenti Digitali Quando paghi Non utilizzando Denaro Ma accostando Il tuo Apple watch Al post E pagando E facendo Una transazione Con un piacevole Suono di campanellino Stai utilizzando Del denaro Ma quel denaro Non lo senti Diminuisce E la percezione E la percezione Del suo valore E allora Visto che qui A strategia digitale Parliamo sempre Dell'importanza Della consapevolezza Devi essere consapevole Che in fondo In fondo In un futuro Sempre più evoluto E complicato Il valore Al denaro Lo attribuisci tu Siamo arrivati Alla fine Di questo episodio Sono curioso Di sapere Che cosa ne pensi Sai che Su strategiadigitale.info Puoi trovare Il pulsantone Per inviarmi Un messaggio Una domanda Se ti va di mandarmi Un commento Sei molto molto benvenuto Molte volte Ricondivido i commenti Sul canale telegram Di strategia digitale Perché è bellissimo Quando quello che manca Ai nostri episodi Lo completate voi Con il vostro pensiero Originale Quindi un grazie mille A tutti i produttori Di strategia digitale Coloro che sono più attivi Nel condividere I loro pensieri E nel sostenere Il nostro progetto Grazie a Utra Bertolone La coautrice del podcast Al nostro fonico Costanza Mineo E a radiospeaker.it Grazie per il sound design Ragazzi Grazie mille E alla prossima Strategia digitale Idee, novità e consigli Per imprenditori E professionisti Appassionati di web marketing E business online E business online A cura di Giulio Gaudiano